La sua nomina alla direzione generale della RAI era stata pronosticata due anni fa da Paolo Mieli proprio al Festival dei Due Mondi. Antonio Campodall'Orto è tornato ieri a Spoleto, ha parlato del futuro dell'informazione e di quella regionale in particolare. L'ha intervistato per noi Luciana Barbetti. Accadrà domani. Si chiamano così le interviste di Paolo Mieli al Festival dei Due Mondi a Spoleto. Accadimenti futuri, quelli ipotizzati da Mieli che a volte diventano realtà. Come la nomina alla direzione generale della RAI di Antonio Campodall'Orto, pronosticata su questo stesso palco due anni fa. E ora, 11 mesi dopo essere arrivato al vertice di Viale Mazzini, Campodall'Orto torna al Festival a rispondere ai quesiti di Mieli e parla della sua idea di televisione e di futuro. La RAI deve diventare più all'avanguardia dal punto di vista dei servizi digitali e deve ritrovare la sua capacità creativa, ha detto il direttore. La struttura dell'informazione regionale è come se fosse uno scambio continuo di ossigeno con la nostra azienda, ma anche il modo in cui la nostra azienda dà un servizio a tutte le regioni. Quello che mi aspetto è che questa cosa possa essere trasportata in un mondo in cui le persone possano usufruirne in un modo sempre più facile. Questo sì, nel senso che la televisione è importante, ma l'informazione sempre di più è legata ai nuovi media. E quindi il TGR per me è un bel esempio di uno sforzo che stiamo facendo per riuscire a portarlo dentro la vita delle persone in modo tale che le accompagni sempre, non soltanto nel momento in cui abbiamo le edizioni del telegiornale.